Una copertina dedicata ad Halloween, una prima storia a terra e, sorpresa sorpresa, una bustina dell'album Donald Duck 90 che Panini Comics ha messo in vendita nei giorni scorsi. Vi lascio in descrizione i video dedicati proprio a Donald Duck 90, realizzati da Michele e da Zio Alain. Ora procedo ad aprire la bustina e vedere un po' che cosa c'è dentro, considerando che comunque io non lo acquisterò, visto che di fatto non saprei con chi scambiare le figurine. E troviamo così una figurina dedicata all'animazione con Donald Duck Steps Out, che è la corto di esordio di Paperina. Quindi una figurina di uno dei personaggi di Paperino Paperotto, non ricordo che sia, scusate. Quindi con un'illustrazione che se la memoria non mi inganna è una copertina di Topolino. Quindi ecco Archimede Pitagorico con Eddie su uno sfondo argentato, molto bello. Infine ecco una delle tante card che si possono trovare all'interno delle bustine. In questo caso abbiamo un bel paperino di Karl Barrax, come è anche scritto nel retro della carta. Direi che nonostante non farò l'album, sono abbastanza contento di questa sorpresa, soprattutto della carta di Karl Barrax. Per cui a questo punto non mi resta che invitarvi, iscrivervi al canale e attivare la campanella per cercare le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Salute a tutti!